Musica Musica Sì Che mi siete abbattito? Bisogna che prepari subito la colazione per tornare il Tuolino E poi... E poi... E poi... Per rada di rada di rada Che fia... Che fia... Che fia! Scena... Erso percivuto Da la la la... Da la 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 la... Da la la... Da la la... Da la la la... Un papà Un papà Un papà Lei ha mortezza e lui mi arrenda. Dolino, dove Dolino? Mettetele nei panni via! Voi lo sapete come stanno le cose? Io ho una rosina! Ma qui, lascia la soffia, non lo vado! Se il mio padre non sarebbe la testa di sposarsi in Cisella. Vedi Dolino, ci sono soltanto dei ragazzini che stanno rubando brutta. Eh, lascia il capore, credo. La soffida il signore. Sì, ma la stanno rubando in apposta. I brutti ti voglio troppo bene. Se non riesco a scusate, io lascio benvenuto e mi faccio frate. Da noi in collegio ci hai confessato un frate. Ah, che uomo fortunato! Meraviglia! No, è a me che mi fa meraviglia che voi mi fate la meraviglia, eh? Che non sa se proprio il ruto del signore! A che ruto del ruto? Non vale molto per io! E' giurata, questa conversazione si fa bene. Ma voi potreste essere il padre qua a casa? Il padre? E non ho pertanto la tempo perché questa la fiducia potresti essere... E no, no. No, 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 no! Ma ho perso la tempo, non ho capito più niente. Tira qua, dove è stato bisogno di andare al pabeto, dal primo che è toto. Ma sono i sett. E tra i cinque e settim' c'è stato il tumore. e poi il tuo amore oddio ma non so come cotto non ti è bastato quello che ci stessi di sera? ma che è successo? io io non mi ricordo di niente e qua se caldo pure un colettino bello e pure come il tuccio ma che era che era per i soldi che ho spesso per non tenere ma se ma andate da quella macchina o quelle sono fasi utili frutte lo sa ma non mi sai di come ha fatto è entrato e che ne so io è entrato e bene si e bravo e così pura bene merita passa all'attacco questo è per carabinieri queste qui te fuori e no non ce l'ho hanno uno in servizio il regolamento e si io ho capito che poi ne creme le due i ghiacchieri si fanno in un paese poi c'è la sola soglia che se sta a fare sacra lezzare a fare sacra lezzare